Capitolo venticinquesimo Tom ridiventò un eroe, il beniamino dei vecchi, l'invidia dei giovani. Il suo nome fu immortalato perfino sui giornali, la stampa locale esaltò il suo gesto. Qualcuno diceva di lui che sarebbe diventato presidente degli Stati Uniti, purché non fosse finito prima sulla forca. Come sempre accade, il mondo irragionevole portò alle stelle Muff Potter e lo esaltò quanto prima lo aveva denigrato. Per Tom le giornate furono di vivo splendore, ma le notti diventarono orribili. Joe l'indiano, con gli occhi minacciosi, compariva in tutti i suoi sogni e ne formava l'incubo perenne. Era difficile indurre il ragazzo a uscire dopo il calar della notte. Huck si trovava nelle stesse condizioni. La sera prima del processo, Tom aveva raccontato all'avvocato tutta la storia e sebbene la fuga del meticcio avesse dispensato Huck dal testimoniare, il povero ragazzo era terrorizzato all'idea della vendetta di Joe l'indiano. L'avvocato aveva promesso di mantenere il segreto, ma c'era da fidarsi? Perfino Tom, dopo il solenne giuramento che doveva suggellare le loro labbra, aveva parlato. La gratitudine di Muff Potter rendeva Tom felice di aver parlato, ma la notte il ragazzo si pentiva di non aver chiuso con un suggello le labbra. A volte egli temeva che Joe l'indiano non fosse mai catturato, a volte temeva che lo fosse. Per poter respirare di nuovo liberamente, bisognava che quell'uomo fosse morto e che Tom ne vedesse il cadavere. Era stata messa una taglia per la cattura dell'omicida. Tutta la regione era stata perlustrata, ma in vano. Da St. Louis arrivò un onnisciente, un onnipotente, meraviglioso uomo chiamato Detective. Girò intorno, annusò l'aria, interrogò, scosse la testa, fece il furbo, dichiarò con aria di importanza di aver trovato una traccia e andò via. Una traccia non si può impiccare, però, e Tom rimase con la paura in corpo, come prima. I giorni passarono e ciascuno si portò via un pezzettino di apprensione.